Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft signori Prima di partire con il video, due importanti novità 1. Abbiamo una mucca libera a casa a casa Ragazzarola è finita la mucca Ah ecco, abbiamo la mucca libera a casa a casa, che non so come si abbia fatto scappare Però è libera a casa a casa, quindi l'obiettivo è trovare una Nintag per darle un nome e essere parte di noi Seconda notizia importante, il mob spawner funziona signori Non chiedetemi come sia possibile che ora funzioni e prima non funzionava Però adesso funziona, arrivano i creeper, arrivano gli scheletri e prima c'erano anche degli zombie signori Questa è un'ottima notizia Questa è un'ottima notizia, abbiamo anche le carote, tantissima roba signori, tantissima roba Quindi ci siamo riusciti, ci siamo riusciti e continuano ad arrivare Continuano ad arrivare, che cosa bellissima, e muoiono subito pure con un semplice tocco di spada Bellissimo, bellissimo Signori, però, cosa facciamo nel video di oggi? Non perdiamoci in chiacchiere, non perdiamoci in chiacchiere Nel video di oggi la farm di lava funziona pure Signori, ma sta funzionando tutto in questa serie Sono troppo contento Mucchetta, devi levarti però da casa mia Davanti a casa mia ti devi levare Levati, fammi entrare Allora, signori, oggi andremo all'esplorazione della miniera che ho trovato in quella direzione di là Sì, in quella direzione di là, mucca Cosa stiamo facendo? Allora, mi sono fatto un ermetto di ferro Abbiamo pochissimo ferro Di conseguenza sto cuocendo l'oro, signori Quindi, male che vada, ci facciamo qua Ho degli stivaletti già pronti Ovviamente non ce lo portiamo dietro l'oro perché non serve a una cippa di nulla Però, quantomeno, ci facciamo una piccola protezione d'oro E così da poter avere un minimo di protezione in più contro i mob Meglio di niente, signori Meglio di niente Ci portiamo il piccone con il piccone di diamante? Posso trovare qualcosa da rompe con il piccone di diamante? No Perché basta che lo trovo con un altro po' di ferro e siamo organizzati Allora, abbiamo la carne, abbiamo il letto, abbiamo tutto Signori, il torcio ce l'abbiamo Siamo pronti per partire in spedizione Il sole sta tramontando, sì Quindi faccio un rapido stacco E ci vediamo mentre sono per strada E poi ci vediamo direttamente quando sono alle coordinate della miniera Così non mi annoio con la ricerca del punto preciso di dovere la miniera Ora la farm non funziona più Perché non funzioni più? Porca di una miseria Perché prima funzionava, ora no? Va bene, però funziona, però funziona Già è qualcosa, già è qualcosa Ok signori, siamo pronti a partire Io ho visto le coordinate e in realtà la miniera è da quel lato di là Non è da dove vi avevo indicato io prima Quindi, quindi, approfittiamo di questa zona di qua Per buttarci senza ammazzarci Quindi scendiamo di qua velocemente Ok E partiamo all'avventura, signori Alla conquista della miniera Sono 400 blocchi che devono andare in questa direzione E altri 26 in questa direzione, sì Quindi la strada è abbastanza lunga Ma non abbiamo paura, signori Noi siamo pronti e carichi La miniera ci aspetta Riuscirissimo a ottenere subito un poco di ferro Non sarebbe brutta come cosa Perché siamo completamente rimasti a zero Di ferro e dobbiamo farne un pochetto Anche perché nei prossimi video Nei prossimi video, signori Vi ho detto che Dico troppo spesso, signori Sì, devo cambiare termine Devo cambiare termine E ho visto che nel Ho trovato anche un mob Uno spawner di scheletri Così girando per il nulla cosmico Quindi dovremo andare a fare una farm precisa di scheletri Che ci darà tutta l'esperienza di cui abbiamo bisogno Quella funziona sicuro, signori È ripetuto, signori E altra cosa Dovremmo fare una rotaia Per raggiungere quella farm E anche una farm di rotaie Che c'è il bug Che possiamo sfruttare Quindi dovremo andare a fare Nei prossimi video siamo anche organizzati Poi mi avete suggerito Un utente Aaron mi ha suggerito Di fare la fontana La potremmo fare vicino all'albero della vita E insieme a quella fare il mulino Con la zona delle carote Visto che abbiamo una carota E possiamo sfruttarla Per ottenere più carote E quindi sì, signori Dai Per i prossimi episodi Siamo organizzati Abbiamo tanta Questa è il fango Stavo dicendo Che cazzo era la Abbiamo tanta carne al fuoco Tanta carne al fuoco Che possiamo sfruttare Possiamo sfruttare Qua c'è pure il kelp, signori Riuscissimo a ottenere Porca miseria La sandstone No, la sandstone Scusa La sabbia delle anime Chiedo scusa Sarebbe tanta roba Va bene, signori Intanto facciamo un taglio Perché sto parlando continuamente E devo un attimino Ricontrollare le coordinate Però siamo vicini Perché di qua ci sono passato E ho rubato la sabbia Quindi siamo in zona Siamo in zona, signori Siamo in zona Ok ragazzoli Dovremmo esserci Dovrebbe essere Scendendo di qua Ora io non ricordo di preciso Aia Però io non ricordo di preciso Però lì già c'è del carbone E questa cosa mi piace Tantissimo E... Fatemi buttare un occhio Sì, 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 sì No Scherzavo Non è di... Sì, 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 sì È di qua L'abbiamo trovato E là già c'è uno spawner di ragni Perf Proprio Perfetto, signori Partiamo proprio alla grande Partiamo proprio benissimo Allora Iniziamo da questa parte di qua Mettiamo una bella torcina E recuperiamo un po' sto carbone Dici, ti serve? Ma 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 Non c'è mai Limita al carbone, signori Anche perché comunque Le torce ci serviranno Il legno ce l'abbiamo Ok Di qua già c'è un perdugio Vorrei evitare subito Lo scontro con i ragni Che sarebbe Cortesemente tanta roba Quello lo lasciamo lì Proviamo ad andare di qua Vediamo se c'è No, 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 no C'è un amico nostro C'è un amico nostro Che deve morire Subito Zio Non ho l'armatura Per poter avere Degli scontri diretti Con voi Quindi con calma Ok Di qua mi sa che Non andiamo da nessuna parte No Di qua non andiamo da nessuna parte Per fortuna La carne ce l'abbiamo Mangiamola subito Mangia, 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 mangia Velocemente Fai il ruttino Bravo E Ok Che dire signori Dalla zona del ragni Non ci vorrei andare Quindi proviamo a scendere di qua Penso che ci arriviamo lo stesso No? Penso di sì Penso di sì Giriamo in tondo tondo Qua c'è una Una Erba Come se non ci fosse un domani Dov'è la mia miniera? Dov'è la mia miniera? Datemi la mia miniera! Ok Di qua da dove sono venito? Venito? Che termine è? Di qua da dove sono venito? Ok Qua c'è dell'acqua Cioè no Non è che qua c'è dell'acqua Sentivo dell'acqua Qua c'è Il nulla cosmico signori Bene Un pochino di ferro Ma lo potevi dare? No Perché sei bastardo Ecco perché Di qua non si è andata a nessuna parte Di qua si scende Proviamo a scendere di qua Ricordo di aver visto La ricordo la miniera signori Dobbiamo semplicemente riuscire a ritrovarla No Non dovevi zapparlo Ok Di qua che vediamo e ci facciamo malissimo Di qua c'è questa acquetta che è un po' fastidiosa Vediamo quel lato di là Questo lato di qua Niente completamente Mi blocchi quest'acqua che è No no aspetta Fai una cosa Mi sono dimenticato a prendermi un secchiello d'acqua Siamo stati fortunati Siamo stati fortunati Proviamo ad andare di qua Aia Siamo caduti malissimo Lì c'è un creeper Ok E lì ci sono delle rotaie Ok signori Abbiamo trovato In qualche maniera l'abbiamo trovata In qualche maniera l'abbiamo trovata E questo è quello che No Una porca Allora leviamo l'acqua Ok Dei mettere le torcine Forse sapete cosa mi conveniva pure farmi Un bellissimo A parte un bellissimo arco Ma anche un bellissimo Aia Maledetto Tecchi non te lo dice pure Hai avuto due possibilità di colpirmi E mi è mancato di brutto Lo creeper Ci ha già disintegrato l'armatura No Ci ha fatto un agguato 4-4 Ma non ci ha potuto far niente di male Ok Ok Calma 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 e sangue freddo Iniziamo l'esplorazione Mannaggia a te Mannaggia a te Questo c'è C'è brutto in questa cosa C'è esploso proprio Davanti la faccia Va bene Stiamo calmi Io non sento i creeper Questa è una cosa Pericolosissima Ok Ok Già c'è una cassa Già questa è una cosa buona Io direi di recuperare anche questa rotaia Perché ci servono Sia per la farm Signori Sia per Comunque avere una base Per il nostro Queste li recuperiamo Che sono pure importanti Là mi sa che c'è uno spawn di ragni Ok È enorme Volevo fare solamente un video Ma mi sa che un video Non ci basta minimamente Un video non ci basta Nemmeno se Sì però se io Perdo tutto Quanto il ferro Così Ok Ma un po' di ferro Me lo puoi dare Perché sei così bastardo Mi serve un po' di ferro Non mi dare il rame Il rame non mi serve a niente Recuperiamo le rotaie Che per fare quello che dobbiamo fare Signori ci serviranno Settantamila rotaie Però mi manca sempre il ferro Oddio Tre di ferro ce li ho Quindi un altro piccone Lo possiamo fare Questa già È una cosa buona Questa è rimasta qui Sì E noi ce la recuperiamo subito Mangiamo E vediamo cosa c'è in questa prima cassa Signori Attenzione Attenzione Prima cassa Bam Ok Ok Una mela d'oro Che è molto importante Rotaie Come se non ci fossero domani Torce Ok Rotai Rotai Semi di zucca Che singente Non ce ne facciamo un cazzo Un cavolo Un cavolo Perché ce le abbiamo La cassa ci può servire No La lasciamo lì Di qua Di qua Questa Allora Noi abbiamo delle frecce No Non abbiamo delle frecce Quindi non possiamo farci nemmeno un arco Tu a solito Fer Non me ne stai dando Ti ringrazio tantissimo Continuiamo l'esplorazione Io mi muovo piano piano Perché voglio Attenzione Tutto Stare attento Non morirci Soprattutto E E vedere Di trovare qualcosa interessante Dici Possiamo trovare qualcosa interessante Allora Una cassa l'abbiamo trovata E c'è nulla cosmico Vediamo se riusciamo a trovare qualche altra cosa Ci dovrebbero essere gli spawn di ragni Ai quali io preferirei stare lontanissimo Però mi sa che dovremo affrontare anche quelli Noi per fortuna le coordinate di casa le abbiamo Mi metto una torcina qui Grazie Infatti là c'è un 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 Questi ci ammazzano male signori Sti ragni ci ammazzano male Tra l'altro non capisco Sì è qua sopra Prima a fare una cosa velocissima Una cosa velocissima Una cosa velocissima Non siamo proprio per niente veloci Per niente veloci signori Accendi 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 Ok ok Questo dovrebbe essere stato annullato Questo dovrebbe essere stato annullato E là c'è un'altra cassa Grande così La queste le recuperiamo tutte Perché ripeto Queste noi non abbiamo tantissimi Io li distruggerei questi signori Però 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 Potremmo farci una farm Non la so fare minimamente Quindi qualcuno dovrebbe aiutarmi Nella progettazione Spiegarmi passo per passo Come si fa La farm Di ragni Però intanto questa L'abbiamo chiusa E questa è già E tanta roba Andiamo a vedere che c'è In quella cassa di là Signori E continua a dire Signori Mamma mia Mi devo levare sto vizio Ok Calma Calma Recuperiamo le rotaie Stiamo finendo il piccone di ferro Va bene Perché lui tra l'altro Piccone di ferro Non mi sta dando un coccio di ferro Un pezzettino di ferro Uno Per dire Guarda ti voglio bene Ti do un pezzettino di ferro No Neanche per i gabbasisi Come direbbe Montalbano Allora Rimettiamo la torcia qua 3, 2, 1 Sbam No Non devi mettermi la torcia Brutto scemo Dovevi aprirmi la cassa Mi devi aprire la cassa Aprimi la cassa Ok 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 Abbiamo il pane E questo è importante Abbiamo del ferro E questo ti voglio bene Abbiamo delle rotaie rilevatrici Che ci servono a poco Del carbone E il primo libro incantato Signori Abbiamo un libro Scusate Cioè il mouse Che mi da qualche problema Con fiamma Ok Fiamma lo possiamo mettere sull'arco Ma fondamentalmente Se non sbaglio O mettiamo fiamma O mettiamo infinità Sull'arco Alla c'è un enderman Che non guarderemo minimamente Se non sbaglio Qua sotto c'era Qua sotto posso andarci? Allora lui è spento Così quindi di qua possiamo muoverci Ricopriamo questa stringa Occhio che non ci siano Esseri indesiderati Torcetta Magari camminiamo con la spada in mano Che dici? Torcetta Ok Di qua si scende L'esplorazione continua Le catene me le porto Anche se effettivamente Le possiamo fare Però le catene me le porto Mi servono per abbellire il mio mondo Tanto qua Che ce le stanno a fare? Niente Non ce le stanno a fare Assolutamente niente Ok Calma Quell'enderman Continuiamo a ignorarlo Di qua posso saltare Sì Torcetta Torcetta Di là continua Di qua non mi sembra che ci sia niente di particolare Là c'è un ragno Di qua continua pure Di qua continua pure Proviamo ad andare di là Proviamo ad andare di là signori Vediamo cosa ci 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 Porta questa esplorazione Qua posso scendere Non muoio male Ogni attento mi parte qualche lag Che porca miseria Niente Il nulla cosmico Di qua siamo andati in questa zona Ma non c'è niente In assoluto C'è anche del carbone là sotto Continuo a non vedere ferro Abbiamo sette pezzi di ferro Quindi comunque Un piccone lo possiamo fare E io lo farei subito Così per essere belli tranquilli E non avere problemi Che se mi risirrompe quello Mi devo fermare magari in un punto particolare Tanto il piccone ci serve signori Il piccone ci serve di sicuro Quindi Le rotaie queste le stiamo lasciando Va bene Va bene E La miniera comunque continua Però signori Facciamo una cosa Facciamo una cosa Io mi giro così E per questo video Ci fermiamo qui signori Perché qui l'esplorazione È bella tosta È bella tosta Detto questo signori Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao